buongiorno amici queste settimane stiamo parlando della menta ci sono però varie tipologie di menta c'è la menta acquatica la menta comune la menta perita la menta viridis la ghiaccio menta ognuna ha delle caratteristiche particolari tralasciando la menta comune moltissimi utilizzi io l'amo nella frittata per esempio ma anche nei carciofi gli altri tipi di menta hanno utilizzi più particolari nello specifico la ghiaccio menta è ottima per fare delle caramelle ancora non sono riuscito a trovare una ricetta molto interessante da questo punto di vista per cui magari mi rivolgo a voi se ce l'avete di di condividerle e altre tipologie di menta come la menta piperita la menta viridis sono ottime per le tisane però mentre in modo diciamo più diffuso viene utilizzata la menta piperita se voi andate in giro sia nei supermercati eccetera trovate tutte le tisane fatte con la menta piperita vi dico però che io ho avuto modo di provare la menta viridis e a mio avviso è molto più saporita e molto più buona della menta piperita per cui io contrariamente a quello che trovate nella grande distribuzione e così sui mercati vi consiglio di utilizzare la menta viridis per le vostre ricette di tisane che dire mi fermo qua a presto amici